Terapia intensiva dell'ospedale San Salvatore sarà potenziata grazie ad una convenzione tra ASL, Fondazione Carispac, Anci e Associazioni Vado e L'Aquila per la Vita, che hanno messo in campo somme importanti, frutto anche di donazioni di cittadini. L'intervento, dal costo di circa 700 mila euro, sarà gestito direttamente dagli enti finanziatori, riuniti in un comitato di garanzia, che vede la Fondazione Carispac capofila. Il progetto prevede la realizzazione di sei nuovi posti letto di terapia intensiva ad alto contenuto tecnologico. Il progetto, con una propria autonomia funzionale, si integra e coordina nel quadro generale della ristrutturazione della terapia intensiva del presidio ospedaliero e con gli altri interventi in fase di realizzazione da parte di ASL. Il manager testa a ringraziarlo tutti per la generosità e fa il punto anche sulla situazione attuale di ospedale Vaccini. Si andrà addirittura a raddoppiare la dotazione di posti letto attualmente presenti, che sono sempre pochi, diciamo, nel senso che per una struttura come l'ospedale San Salvatore, già la dotazione di posti letto era in parte sottodimensionata, quindi c'è un impulso ulteriore appunto a questa dotazione di posti letto e posti letto che poi beneficiano anche dei lavori che si stanno facendo attualmente per quanto riguarda il DL34. L'ospedale dell'Aquila costituisce il centro hub della rete Covid per quanto riguarda l'azienda, ha avuto un notevole potenzialmente in questa fase, penso al Delta 7 che ha portato a un notevole aumento di posti letto e devo dire che in questa fase l'azienda dell'Aquila sta svolgendo un atto dovuto, anche io lo definisco una sorta di mutuo soccorso nei riguardi delle altre aziende con sorelle che si trovano adesso in difficoltà. Il problema grosso è l'approvvigionamento dei vaccini, cioè la distribuzione dei vaccini che noi ci auguriamo anche con l'evoluzione della tipologia di vaccini che sta avvenendo in questa fase. Sta per arrivare il vaccino monodose di una nota a casa statunitense, ci sono indicazioni anche ministeriali, adesso le stanno elaborando, saranno emanate a poco sul fatto ad esempio di fare una dose sola per coloro che hanno già avuto il Covid. Quindi è una materia fluida, è una materia che è in continuo divenire, noi ci stiamo assolutamente adattando, andando dietro a questa sfida ulteriore. Questa esperienza può diventare un modello per lanciare anche sul nostro territorio il metodo del crowdfunding in cui le istituzioni su progetti concreti si impegnano a stanziare una somma pari a quelle raccorte dai cittadini, dice il presidente della Fondazione Taglieri. In conferenza stampa anche il primario di terapia intensiva Franco Marinangeli dell'Associazione Vado, Giorgio Paravano, presidente dell'Aquila per la vita, e Adolfo Cicchetti, presidente Ance, che hanno dato impulso e contributo economico notevole con le associazioni che rappresentano il progetto che è già pronto e che finalmente può partire. Penso che sia motivo di soddisfazione per la Fondazione e motivo di soddisfazione anche per l'Aquila stessa, perché questa attenzione che noi abbiamo riservato rende questo reparto sempre più fruibile e sempre più sicuro.